Tornano a gala le polemiche sulla fiera di Sant'Andrea a Portogruaro, le ha scatenate il senatore Paolo Scarpa. È diventata una cosa impresentabile, ha riferito in un recente convegno in Villa Comunale organizzato dal PDL. Il nostro ex sindaco chiese un importo finanziario al ministero e glielo demmo. Per il resto la fiera, questa sagra, c'è un odore di maiale bruciato, è incredibile, questo odore di porco bruciato in giro per la città, questo odore di crauti, prodotti della Calabria, con tutto il rispetto per i nostri amici calabrese. Cosa c'entra? Si domanda Scarpa, tutto questo. Va comunicata la portogruesità del territorio, non una cosa improbabile e puzzolente. È questo quello che ha fatto la sinistra in questi anni.